Buon pomeriggio, siamo qui al Mixology Experience 2023, siamo in compagnia di Michelangelo Foglio, assistente alle vendite di Maniva. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, ci racconti un po' cos'è l'acqua Maniva, cosa rappresenta per voi? Certo, allora l'acqua Maniva, che prende il nome dal medesimo monte, dal monte Maniva, è un'acqua alpina, oligominerale, quindi con basso contenuto di sali, alcalina, indicata per l'alimentazione dei neonati e appunto alpina, un'acqua tipicamente alpina. Siamo qua a presentare due contenitori nuovi, due novità che abbiamo lanciato. La prima è questa, che è il Brick, Acqua & Brick in Tetra Pak, per valorizzare al meglio, l'idea ci è venuta diciamo, sia per offrire un prodotto alternativo alla plastica, laddove non si può utilizzare il vetro, sia per valorizzare al meglio il prodotto, perché comunque il Tetra Pak è un contenitore che valorizza il prodotto, perché lo mantiene molto meglio, lo mantiene molto più a lungo della plastica, non è poroso, non c'è traspirazione, anche sotto i raggi del sole resta fresco molto più a lungo, quindi ecco che per un'acqua che per noi è molto preziosa, ci è sembrato giusto anche offrire un contenitore prezioso. Come state presentando queste novità? Stanno riscuotendo molto successo sia in fiera che nel mercato? Che cosa ne pensa? Sì, al di là diciamo di questa fiera particolare, devo dire che il mercato sta ricevendo molto bene le nostre novità, sia la nuovissima entrata che è appunto il Tetra Pak, che è sul mercato da pochi mesi, ma che sta conquistando sempre più una sua dimensione proprio, una sua nicchia, un suo collocamento direi, sia per il mineral seltz, che è forse il prodotto principale che siamo qua a presentare, perché è proprio tipico e specifico per la miscelazione, che sono questi fusti da 20 litri, sia in acciaio che in polikeg, a seconda delle evenienze e delle necessità del cliente, di acqua gasata, molto gasata, sovrassatura dell'idride carbonica, da attaccare a un impianto qualsiasi a spina della birra, per avere un Schels che è perfetto dall'inizio alla fine, microbiologicamente puro, garantito, in acqua oligominerale alpina, e che appunto sia uguale identico dall'inizio alla fine. Va bene, grazie mille innanzitutto e le auguro una buona fiera a lei e all'azienda in generale. Grazie e buona continuazione a voi.